Grazie a tutti. Nel periodo in cui le donne al centro di questo spazio, questa sala oggi è una delle sale di rappresentanza che è ripetuta, né in questa sala né altrove. Oltre alle amministrazioni, l'amministrazione lo ha ricevuto spoglio. La sala famosa della secolare cerimonia dell'Italia. Non a caso, gli stati di Boegna e assemblati a Murano.